Un commento Margherita, secondo giorno di gare, come ti senti? Tu hai già la qualifica, quindi insomma sono dei test questi per te. Sì, sì, sicuramente per me questo 7 colli è un po' un test, un allenamento per così dire per poi le Olimpiadi, sto ancora lavorando parecchio e sentivo che la forma non era al top, quindi oggi mi aspettavo magari al massimo mezzo decimo di meno, non di più, sono sincera. Comunque il 100 ogni volta per me è un po' un'incognita, vediamo domani al 2 che per me è la gara più importante, cosa esatta, la mia distanza, vediamo cosa riesco a tirare fuori in questo periodo, però anche se va male non importa, comunque sono contenta del percorso che sto facendo, sono fiduciosa dell'allenamento del mio allenatore e quindi è solamente questo 7 colli è solamente per gareggiare con delle atlete internazionali in un periodo abbastanza senza pressioni per noi e quindi così, crepi il lupo, grazie. Grazie